... Migranti Napoli sfida Salvini, il sindaco De Magistris contro il decreto sicurezza. Da oggi ha firmato una direttiva per inserire i richiedenti asilo nell'elenco temporaneo dell'anagrafe. Rispetto alla Costituzione chiarisce l'ex PM, ma è polemica. Ospedale delle Formiche, crolla anche il soffitto, il San Giovanni Bosco nel caos. Dopo le denunce per la presenza delle Formiche, la scoperta di un sabotaggio nelle condotte per allagare il pronto soccorso, un altro episodio negativo. Nella notte ha ceduto la controsoffittatura in sala parto. Camorra, arrestati imprenditori anticlan, arrestati per concorso esterno in Camorra. Tre imprenditori originari di Casa Pesena, due sono i figli di Mario Diana, ucciso 30 anni fa dalla Camorra, è ritenuto vittima innocente. Avevano creato una fondazione che organizza eventi anticamorra. Omicidio Matarazzo è individuata la pistola. I colpi che uccisero il 45enne pastore di Frasso Telesino sono stati sparati dall'arma sequestrata a Giuseppe Massaro, arrestato insieme a un complice il 28 dicembre scorso. E' quanto emerso dalla perizia balistica nel corso dell'udienza del riesame. Avellino, allarme e furti, ora scattano le ronde. Ormai è una vera e propria emergenza. Nella notte svaliggiate altre due abitazioni accontrate a Bagnoli, già presa di mira dai ladri nei giorni scorsi. I giovani della zona si sono organizzati con le ronde notturne. Gli anti De Luca in campo a Salerno, una città ferita che ha dimenticato la cultura. All'archivio di Stato l'incontro promosso dagli anti De Lucchiani. L'assessore Daniele del Comune di Napoli all'attacco deluso dalla gestione del potere del governatore. Questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News. In apertura, non è disapplicazione del decreto sicurezza ma obbedienza alla Costituzione. Le persone non diventano invisibili per volontà del governo. Con queste parole, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sfida Salvini e firma la direttiva per inserire i migranti richiedenti asilo nell'anagrafe del comune. Sentiamo il servizio di Giovanni Battista Lanzilli. I migranti presenti sul territorio che sono in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo vanno comunque inseriti nell'anagrafe cittadina. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sfida il governo ed in particolare il vicepremier Salvini sul decreto sicurezza. Gli assessori Laura Marmorale e Monica Bonanno, con delega rispettivamente ai diritti di cittadinanza e all'anagrafe, ribadiscono lo sforzo per promuovere politiche di inclusione sociale e di contrasto alla povertà. Nessun dubbio per il sindaco De Magistris che lancia il guanto di sfida a Salvini. Il nostro primo punto di riferimento è la Costituzione. Chiaramente la legislazione comunitaria, i trattati internazionali, le leggi ordinarie hanno scaricato su noi sindaci l'interpretazione immediata della legge perché non è che i diritti possono aspettare. Come in questo ha detto anche il ministro Salvini e come questo vale anche per noi, la legge per certi aspetti è chiara. Quindi alcuni profili sono incostituzionali e non spetta chiaramente né a me né a un ministro dichiararli tali ma bisogna sollevarli davanti alla Corte Costituzionale. ma come ho detto prima, poi ci stanno dei profili che si possono interpretare. Quindi non è un atto di disapplicazione della legge o di disobbedienza, è un atto di ubbidienza alla Costituzione perché esistono persone che non è che per voluntas legis di qualcun altro possono diventare persone invisibili che da un giorno all'altro non esistono. Questo può valere per qualche ministro della Repubblica italiana ma non per noi. Dopo le formiche crolla anche un solaio in sala parto. Non c'è pace per l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Domani la commissione d'inchiesta deciderà sulla chiusura totale o parziale dei reparti. Intanto il manager Mario Forlenza chiede al ministro Grillo di sbloccare i fondi per la ristrutturazione, l'ospedale è in condizioni disastrose. Rossella Strianese. Prima il caso delle formiche, i casi delle formiche ripetuti dalla 10 novembre in poi, poi il rischio allagamento dei locali del pronto soccorso proprio durante l'ispezione ministeriale dei NAS inviati dal ministro della Salute Giulia Grillo. Infine il crollo di una parte di solaio di controsoffittatura in sala parto qui al quinto piano. L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è ormai diventato l'emblema della mala sanità in Campania. Un ospedale, un presidio importantissimo per questa fetta di città, secondo per accessi soltanto al Cardarelli. Il crollo è avvenuto la notte scorsa. Darne notizia alla CGL. La sala parto era già stata chiusa per infiltrazioni d'acqua e spostata al piano terra. Per gli utenti l'ospedale resta un riferimento importante, ma si salva solo per la bravura dei medici. Negativo. In tutto? Ma è un ospedale che dovrebbe essere già chiuso da diversi anni. Ma alcuni reparti sono puliti, alcune persone sono di coscienza, poi il resto è disastrato. Il manager Mario Forlenza, travolto dal caso delle formiche, è sempre più convinto che si tratti di un sabotaggio. Qualcuno potrebbe avere qualche interesse a delegittimare, a rappresentare una sanità campana che è fatta dalle formiche al San Giovanni Bosco. E domani noi abbiamo una riunione importante perché io voglio sapere da loro, da questa commissione, se c'è necessità, come si dice, di fare dei provvedimenti anche drastici per sradicare tutto questo fenomeno delle formiche e c'è necessità di chiudere anche parzialmente le parti eccetera. Io sono disposto a farlo. Abbiamo chiesto 7 milioni e 800 mila euro al Ministero per questa ristrutturazione. Il Ministero ci ha risposto, pare, che occorre che noi produciamo un certificato di vulnerabilità sismica della struttura. Il che significa, diciamo, non so se arriveranno questi soldi. Clan dei Casalesi, arrestati i re dei rifiuti, sono accusati di concorso esterno al gruppo Zagaria, gli imprenditori casertani del settore del riciclo. Un arresto clamoroso, visto che i tre fratelli sono sempre stati portavoce e simbolo della lotta alla camorra. Simonetta Iepariello. Sono accusati di concorso esterno al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi, gli imprenditori casertani del settore del riciclo dei rifiuti Antonio Diana, suo fratello Nicola Diana e loro zio Armando Diana, sottoposti ai domiciliari dagli agenti della mobile di Caserta diretta da Filippo Portoghese. Un arresto clamoroso negli ambienti dell'attivismo dell'antimafia casertano, dal momento che proprio Diana per anni sono sempre scesi in campo in iniziative di lotta alla camorra. Sono stati loro ad istituire la fondazione Mario Diana, intitolata al padre imprenditore ucciso nel 1985 perché non volle pagare il pizzo ai clan. L'indagine, coordinata dalla DDA attraverso dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un rapporto operativo tra il mondo dell'imprenditoria, in particolare quello dei Diana, e la fazione dell'ex superlatitante Michele Zagaria. Un patto criminale stretto con il clan che avrebbe consentito agli imprenditori di godere di una protezione e di una tranquillità operativa tali da permettere agli stessi di raggiungere nell'area territoriale di competenza una posizione privilegiata. Ma in cambio il clan, secondo gli inquirenti, avrebbe ottenuto dai Diana il cambio di assegni, la consegna sistematica di soldi necessaria ad alimentare le casse dell'organizzazione camorristica riconducibile a Michele Zagaria. Eseguito a carico di Diana anche il decreto di sequestro preventivo delle società ubicate e dislocate nell'agroversano, nel centro cittadino casertano e nelle città di Napoli e Milano. Scatenarono la guerriglia prima di Napoli-Verona del gennaio 2018, arrestati 5 ultraazzurri, eseguite anche 10 perquisizioni nell'ambiente del tifo partenopeo. Cinque arresti per la guerriglia urbana scatenata il 6 gennaio 2018, prima di Napoli-Verona, nei pressi della stazione centrale, dove vennero lanciati sassi e incendiati otto automezzi della polizia. Quel giorno furono circa 200 a scatenare l'inferno per l'arrivo dei tifosi dell'Ellas-Verona. Grazie al controllo del territorio da parte della Digos, del primo dirigente Francesco Liccheri e al coordinamento della procura, aggiunto Luca Antonio, PM Capuano e Desimone finiscono in cella in cinque, tutti riconducibili alla curva B e ai gruppi Secco Vive Ultras 72 Area Nord. In manette finiscono Carmine Cacciapuoti, Tommaso Fiorillo, Gennaro Jescone, Diego Infante e Fabio Vegliante. Infante e Cacciapuoti erano già gli arresti per i fatti legati all'aggressione dei van della Roma. Eseguite anche 10 perquisizioni a carico di altrettanti appartenenti alla tifoseria partenopea. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti utili alle indagini, oltre un manganello, un passamontagne e un tirapugni. I provvedimenti sono il frutto delle indagini coordinate dal pool di magistrati istituito presso la locale Procura della Repubblica. Incidente sul lavoro questa mattina a Fiumicino. Un addetto ai lavori è morto dopo essere caduto da un'altezza di 30 metri mentre verniciava un palo della luce in via dei collettori. Sul posto i poliziotti del commissariato di Fiumicino che indagano sulla vicenda. La vittima è un uomo di 47 anni originario di Napoli. Quando si è verificato l'incidente stava effettuando dei lavori di verniciatura sul palo della luce per conto di una ditta subappaltatrice della provincia di Napoli. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Nove ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite questa notte dai carabinieri di Napoli nei confronti di esponenti dei clan Mazzarella e Rinaldi. Indagini partite dall'omicidio di Francesco De Bernardo, ras di Somma Vesuviana. Vediamo. Dopo tre anni e mezzo c'è la svolta per l'omicidio di Vincenzo De Bernardo, il ras della droga di Somma Vesuviana ucciso in un agguato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Napoli ad arrestare sul mandato della DDA i presunti responsabili del delitto. Si trattava di una vendetta trasversale per colpire lo zio del presunto assassino di Emanuele Sibillo. I carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di nove indagati ritenuti affiliati al clan Mazzarella e Rinaldi. I militari sono riusciti a far chiarezza sulle dinamiche dei gruppi criminali dell'area compresa tra Somma Vesuviana e Marigliano, contraddistinta da un acceso antagonismo. In tale scenario è stato quindi pianificato ed eseguito da sei degli indagati l'omicidio di De Bernardo, esponente di spicco del clan dei Mazzarella. L'11 novembre del 2015 i killer rinquadrati nel clan dei Rinaldi lo hanno intercettato all'interno del parco Fiordaliso a Somma Vesuviana, attingendolo al fianco con un colpo di pistola. L'azione ha innescato la sede di vendetta dei rivali i quali il 6 settembre del 2017 hanno teso un agguato nei confronti di un pregiudicato di Marigliano, Antonio Amato, erroneamente ritenuto coinvolto nell'omicidio di De Bernardo. L'attività investigativa ha consentito dunque di ricostruire il movente le dinamiche delle azioni, nonché di delineare i ruoli ricoperti dai singoli indagati. Nel corso degli arresti di questa notte è stato rinvenuto e sequestrato anche un vero e proprio arsenale, ritenuto nella disponibilità degli indagati. Cambiamo argomento, continua a far discutere la riforma delle autonomie proposta dal governo. Si è svolta oggi una seduta straordinaria del Consiglio regionale per discutere del federalismo, del regionalismo differenziato. Cesaro di Forza Italia è il momento di unire le forze. In Matedisco. Riunione straordinaria del Consiglio regionale questo pomeriggio per discutere del regionalismo differenziato, seduta monotematica per affrontare la questione della riforma delle autonomie che così come proposta dal governo continua a generare malcontento tra le regioni del sud. Ha invitato tutti a fare squadra parlamentari inclusi, l'esponente di Forza Italia Armando Cesaro, promotore della richiesta di una seduta monotematica sull'argomento. Diciamo che stanno provando a fregarci, il problema è ovviamente tutto politico perché capiamo che i governatori del Nord hanno iniziato un percorso e non vogliono rallentare. C'è da dire che forse qualche colpa è anche di questa giunta che non ha accelerato questo percorso. Adesso non è il momento delle colpe, come dicevo in aula è il momento di stare tutti insieme e di accelerare questo percorso perché noi non siamo contro le autonomie ma vogliamo partire tutti nello stesso momento perché dobbiamo essere pronti ad accettare la sfida e deve essere una gara ad armi pari. Si prosegue dunque verso la strada del ricorso annunciato nei giorni scorsi dal governatore Vincenzo De Luca il timore che la riforma possa aumentare il divario con le regioni del Nord. Noi non dobbiamo smarrire ciò che dentro la Costituzione è previsto e non dobbiamo smarrire diciamo una dimensione solidale tra le regioni che sono parte fondamentale dell'architettura istituzionale del nostro paese. Dunque così come si propone rischia di essere almeno nell'intenzione delle regioni del Nord un elemento che non è che soddisfa autonomia delle regioni ma rischia di separare definitivamente un paese. Novità nelle indagini per l'omicidio del 45enne pastore di Frasso Telesino nel Sannio ucciso dopo essere uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per abusi sessuali. Gli investigatori hanno individuato l'arma che a luglio aveva fatto fuoco. Il servizio. Novità importantissima nel Sannio nell'indagine sull'omicidio di Giuseppe Matarazzo il 45enne pastore di Frasso Telesino ammazzato a colpi di pistola il 19 luglio del 2018 dinanzi alla sua abitazione. Dalla perizia balistica sulla 357 Magnum è risultato che da quella pistola sono stati esplosi i proiettili contro la vittima. Si tratta dell'arma sequestrata dai carabinieri ad uno degli indagati Giuseppe Massaro 55 anni di Sant'Agata dei Goti arrestato a dicembre scorso al pari di Gennaro Nasta trentenne di San Felice a Cancello. Matarazzo come si ricorderà era stato ucciso dopo aver scontato una pena ad oltre 11 anni di carcere per abusi su una quindicenne che si era poi suicidata. Quello della reazione di Massaro al ritiro dell'arma detenuta legalmente operato dai militari per una discrasia del numero di matricola è uno dei capitoli sui quali è fondato l'impianto accusatorio. Dalle intercettazioni era infatti balzata fuori la successiva preoccupazione del 55enne che durante l'interrogatorio di garanzia l'aveva attribuita non al timore di possibili sviluppi sulla pistola ma ad un'indagine per estorsione a suo carico. È uno dei tasselli di un'attività investigativa corroborata dai dati del GPS riguardanti la presenza a Frasso Telesino la sera del delitto e nei due giorni precedenti della croma di Massaro. Un'auto che lui avrebbe fornito e che l'altro indagato Nasta rimasto in silenzio dinanzi al giudice avrebbe guidato. Al via il processo d'appello nei confronti dell'attore Domenico Diele condannato in primo grado a sette anni e otto mesi per aver travolto e ucciso con la sua auto la 48enne salernitana Ilaria Di Lillo. Udienza a porte chiuse la famiglia della Di Lillo ha deciso di non costituirsi parte civile. Vediamo il servizio di Sarabotte. E' tornato oggi in aula l'attore Domenico Diele condannato per la morte della 48enne salernitana Ilaria Di Lillo ad accompagnarlo i suoi legali di fiducia Guglielmo Marconi e Ivan Nigro. Partito dunque il processo d'appello nei confronti del 33enne che travolse e uccise la Di Lillo con la sua auto sull'autostrada del Mediterraneo. In primo grado l'attore ha scelto il processo abbreviato. Il giudice per le odienze preliminari Piero Indinni Meo l'ha condannato a 7 anni e 8 mesi. La famiglia di Ilaria Di Lillo ha scelto di non costituirsi parte civile nel processo d'appello. Oggi non erano infatti presenti in aula. L'udienza su richiesta dei legali dell'attore è stata celebrata a porte chiuse. Appuntamento in aula il prossimo 26 marzo. Ilaria Di Lillo morì in seguito ai gravi traumi riportati dopo che l'auto guidata da Diele risultato positivo ai test antidrogue e alla guida senza patente tamponò il suo scooter per la notte del 24 giugno del 2017 sbalzandola con violenza sulla carreggiata nord dell'autostrada 2 nel tratto compreso tra gli svincoli di Ponte Cagnano e Monte Corvino Pugliano. Andiamo ad Avellino. Non si arresta l'ondata di furti a Contrada Bagnoli, zona periferica del capoluogo Irpino. Ieri l'ennesimo ride svaleggiata una villetta quando i proprietari erano usciti. La vittima non viviamo più per la paura. Qui già si sono organizzati con le ronde. Vediamo. Un allarme che non si ferma. Contrada Bagnoli, quartiere periferico di Avellino e piena emergenza furti. Dopo la serie di ride messi a segno uno dietro l'altro in diverse abitazioni della zona dai ladri acrobati, ieri hanno preso di mira un'altra villetta. Sradicata una finestra blindata sul retro. Usiamo un nome di fantasia per raccogliere la testimonianza della signora Lucia, vittima del furto. Ieri dalle 4 alle 8 di sera in casa non c'era nessuno e ne hanno approfittato per colpire, saccheggiando e portando via tutto quello che trovavano. Qualcosina sì, qualcosa ma più che altro cianfrusaglie che poi le abbiamo ritrovate giù al fiume. Anche perché si sa, oggi si vive alla giornata, non è che abbiamo chissà che in casa. La gente ormai non dorme più, anche perché la maggior parte dei furti sono stati messi a segno con i proprietari in casa, si vive nel terrore. La sera abbiamo paura di tornare a casa, torno proprio con quell'ansia come ieri sera, avevo la paura di chissà cosa trovare e ho trovato tutto questo. Quindi la notte non si dorme, è sempre vegli e spero che finisca presto. Purtroppo bisogna pure uscire per fare le commissioni, per il lavoro uno e devi uscire, mica possiamo stare sempre in casa. L'appello è alle forze dell'ordine affinché si facciano vedere di più nel quartiere. Un po' più di sorveglianza, di girare un po' più di notte, a piedi, nei campi, solamente questo. Ma i residenti intanto sono pronti a tutto, anche alle ronde. Lo stanno già facendo i ragazzi, si si girano, girano. La notte si, pure di giorno, spesso, quasi tutta la giornata, sono in giro. Torniamo a Benevento, orario pomeridiano e servizio navetta torneranno a scuola da domani gli studenti di una delle scuole chiuse per problemi di staticità nel capoluogo Sannita. Tornano tra i banchi già domani gli studenti di una delle scuole chiuse a Benevento perché gli istituti non hanno superato verifiche relativi alla staticità. Orario pomeridiano per i 273 alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Bosco Lucarelli che frequenteranno presso l'Istituto Comprensivo Moscati dalle 14 alle 18 da lunedì al sabato. Per i ragazzi sarà predisposto un servizio navetta per il trasporto dalla scuola media Bosco Lucarelli di Via Gioberti alla scuola media Moscati di Via Nuzzolo a partire dalle 13 e 30. Per i bambini della scuola dell'infanzia e degli elementari che saranno ospitati primi nell'Istituto di Via Torino e più grandi alla scuola di San Modesto occorrerà ancora qualche giorno. Intanto proseguono le verifiche riguardo alla staticità e alla vulnerabilità sismica degli istituti scolastici. Sulle 19 strutture cittadine infatti solo 7 sono state controllate. Dal monitoraggio delle altre 12 potrebbero emergere altri problemi. Un'ipotesi per il quale il sindaco Clemente Mastella ha chiarito che il comune è già al lavoro alla ricerca di soluzioni alternative. Io ho anche parlato alla protezione civile. Ho detto può ristiare ben avendo come altre parti vedere che cosa fare. Nel senso che avremo bisogno forse anche di infrastrutture mobili di quelli che si mettono che sono i momenti emergenziali. 18 milioni di euro per valorizzare il turismo e realizzare un sistema integrato di accesso turistico alla Smart City sono i fondi destinati agli interventi del PIX, il programma integrato città sostenibile per la città di Avellino. Martedì 22 gennaio il governatore De Luca firmerà in regione Campania con il commissario straordinario Priolo il provvedimento di delega per l'attuazione del programma. Si tratta di progetti per riqualificare il sistema di pubblica illuminazione, incentivare il rilancio economico del centro storico con l'apertura di nuove attività ma anche progetti sociali destinati alle fasce più deboli e di contrasto alla povertà. Torniamo a Salerno, una città ferita che ha dimenticato la cultura. All'archivio di Stato l'incontro promosso dagli anti deluchiani l'assessore Daniele del comune di Napoli all'attacco deluso dalla gestione del potere del governatore. Vediamo. L'identità rubata, questo è il titolo del primo dei sette incontri promosso da Italia Nostra, Forum della Cultura e Figli delle Chiancarelle all'archivio di Stato di Salerno. Al centro del confronto i temi della cultura e il giudizio è nettamente negativo. Questo concetto di identità rubata che in questa città nel tempo ha subito un proprio scippo tra virgolette. Basti pensare che l'antico logo di questa città era Ippocrate e la scuola Ippocratica, poi sette o otto anni fa qualcuno ha deciso che una S di Superman potesse rappresentare culturalmente questa città e infatti siamo diventati una città da Circo Barum, siamo diventati una città di S di Giostre e tant'è vero che oggi se qualcuno la vuole vedere la trova sulla ruota panoramica che gira. Allora l'identità non è una questione di ruote panoramiche, l'identità e la cultura si costruiscono giorno per giorno. Tra i relatori anche l'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele dal quale non sono mancate critiche all'indirizzo del governatore De Luca. Un nuovo centralismo soffocante, sono enti di gestione che non programmano, non legificano più con una visione lunga, è tutto ridotto alla gestione, nel mezzogiorno ovviamente la gestione riguarda soprattutto un po' i fondi europei e null'altro e quindi tutto ciò è una mancanza di orizzonti, mancanza di prospettive. Visto proprio dall'occhio di Napoli la gestione De Luca per quanto riguarda la regione Campania, il giudizio che si può dare qual è? Sì, diciamo di centro-sinistra, diciamo sinistra ne abbiamo vista poca, di centro e di continuismo purtroppo tanto. Primo giorno a Pompei per la direttrice ad interim del parco archeologico Alfonsina Russo che ha incontrato questa mattina i responsabili degli uffici e il personale del parco accompagnata dal capo di gabinetto nel BIMAC Tiziana Coccoluto, dal segretario generale Giovanni Panebianco e dal direttore generale uscente Massimo Sanna, sarà garantita la totale attenzione alle attività del parco archeologico nel segno di un'assoluta continuità delle procedure in corso. In questa fase di mia permanenza non ci saranno cambiamenti, ha detto Alfonsina Russo, ma si proseguirà nel solco già tracciato in maniera ottimale con risultati riconosciuti a livello internazionale da Massimo Sanna, grazie all'eccezionale lavoro di squadra condotto dai funzionari e da tutto il personale del parco archeologico di Pompei. Verso le elezioni amministrative ad Avellino sembra consumarsi la spaccatura tra Forza Italia e Lega, Sibilia e Ines Fruncillo. No, agli estremismi serve un progetto civico, il servizio. La coalizione di centrodestra rappresenta il passato, serve un progetto civico. Il coordinatore di Forza Italia Cosimo Sibilia in vista delle elezioni amministrative ad Avellino si allontana dalla Lega e apre alla società civile. Sibilia smentisce però un asse con Luca Cipriano, non l'ho visto e non è previsto alcun incontro. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex consigliera comunale Ines Fruncillo che sottolinea come sulla scia del progetto di Tajani anche in città si stia costruendo l'altra Avellino, pronti a dialogare con tutti ma non con chi rivendica ruoli baricentrici o assume posizioni precostituite. Una coalizione centrodestra nella condizione nella quale versa il comune di Avellino è anacronistica e sicuramente non riuscirebbe a dare la risposta giusta a un elettorato che attende con ansia che si ricostruisca una classe dirigente capace di risolvere i problemi della città. Detto questo Forza Italia è andata oltre facendo un atto di generosità e ritenendo che allargare tutte le sensibilità moderate e cercare di essere motore propulsore per rinnovare anche la classe dirigente di questa città sia un elemento indispensabile. La Lega? Chiedete a loro, taglia Cortola-Fruncillo. Di certo Forza Italia sul territorio ha e deve ancora avere un ruolo da protagonista. Io ritengo che la nostra proposta sia una proposta inclusiva, dopodiché noi non accettiamo posizioni precostituite e soprattutto riteniamo che ci siano due criteri fondamentali sui quali costruire questo progetto, la credibilità e la serietà. Era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale di 8 Channel News, canale 696, curato in regia da Michele Urciuolo. Vi lascio alle previsioni del tempo a seguire il TG Sport. Da Angelo Giuliani una buona serata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.